Perché votare la Lega e perché votare me? In due parole, la Lega è un partito che è quello che dice e fa. Bene, il programma già si conosce da tempo, insomma, le nostre priorità sono la sicurezza, il commercio, il piccolo commercio, il rilancio del turismo e il potenziamento dei servizi sociali. La Lega è un partito che è quello che dice e fa. Come dice sempre il nostro, tra l'altro, grande capitano Matteo. Beh, i nostri programmi sono chiari, le nostre priorità per Lecce sono chiare, l'abbiamo già detto sin dall'inizio di questa campagna elettorale. In primis la sicurezza, la sicurezza che è un fattore fondamentale anche di libertà per i cittadini. Non si è liberi se non si è sicuri, se non si è sicuri di circolare per le proprie vie della propria città. E quindi non lasciare più abbandonate alcune zone di questa nostra amata Lecce, perché fino ad adesso ci sono state delle trascuratezze che non dobbiamo più commettere. In secondo, dare uno sguardo più importante, più incisivo anche per quello che riguarda il commercio, il piccolo commercio, salvaguardare quello che è il tessuto imprenditoriale della nostra città perché deve essere tutelato e incentivato. Ovviamente a questo si deve accompagnare anche un piano traffico degno di essere chiamato tale, perché deve andare di concerto con le varie esigenze sia dei commercianti e di chi poi ci abita, ovviamente, delle vie che appunto sono caratteristiche del commercio. Uno sguardo particolare al turismo, dobbiamo incentivare di più il turismo perché è una città a vocazione turistica e quindi ovviamente non possiamo fare altro che aumentare le possibilità di investimento che possono tra l'altro poi creare un indotto lavorativo per i nostri giovani che purtroppo tanti sono costretti ad andare fuori. E poi che dire anche per quello che riguarda i servizi sociali, è un punto che abbiamo a cuore e che noi abbiamo voluto inserire nel programma per il candidato sindaco e il tuo congedio e quindi potenziare al massimo quelli che sono gli aspetti dei servizi sociali perché c'è troppa gente, troppe famiglie che sono in difficoltà e che bisogna aiutarle a emergere e farle uscire fuori da questa condizione di estrema povertà. La coerenza mi ha portato a rappresentare la Lega in questa campagna elettorale. Lo voglio fare dedicandomi totalmente cinque anni a quelle che sono le tematiche e le problematiche della mia città, l'ho sempre fatto al di fuori della politica e lo voglio fare quest'anno soprattutto, datemi la possibilità di farlo, non vi denunerò, e per questo io sono a votare Lega e votare Mello. Grazie.